Noi scendiamo in piazza nel senso che abbiamo detto che il 26 di agosto deve essere nel tempo una giornata nazionale per far presente all'opinione pubblica ai nostri bagnanti che noi siamo per loro una risorsa, non siamo i loro affittuari, i proprietari degli ombrelloni e dei servizi. Noi siamo quelle persone che hanno messo in piedi un'impresa e il nostro patrimonio sono i clienti. Immaginare una spiaggia senza i nostri clienti, senza le strutture balneare, sarebbe veramente un danno all'immagine, un danno al turismo balneare. Noi ci auguriamo, così come hanno detto durante le campagne elettorali, e il centinaio lo ha ribadito la scorsa settimana, che i balneano hanno bisogno di una proroga di almeno 30 anni. Per la verità, lo ha detto Scaiola, l'assessore in Liguria, queste cose. Noi possiamo anche ragionare, metterci intorno a un tavolo, per esempio, un restyling di tutta la costa abruzzese, che sono 650 lidi, beneficiando di questo prolungamento della concessione, applicando la 296, la legge dello Stato, che consente di avere attraverso gli investimenti un congruo periodo di tempo per ammortizzare gli investimenti. E questo darebbe una grande mano. Siamo fermi con gli investimenti dal 2011. La richiesta è rivolta a tutto l'arco parlamentare, attualmente è rivolta ai partiti che sono i più rappresentativi sul territorio. È chiaro che noi oggi abbiamo fatto una conferenza stampa, invitando tutti i segretari regionali delle forze politiche a livello nazionale, e ci auguriamo che l'appello di domenica possa essere cibi su tutto il territorio.